Possiamo dire che siamo nella condizione di sentirci abbastanza soddisfatti, non fosse altro che stato stabilito a breve di incontrarci di nuovo per far partire il tavolo tecnico emergenziale di settore che chiediamo da tempo. Ma lo sciopero è confermato? Congelato, è congelato. Perché siamo in attesa di capire quando il governo ci convocherà, promesso i primi giorni della settimana prossima per questo tavolo di filiera e anche per far sì che ci sia la possibilità di leggere poi sulla casetta ufficiale il testo del decreto sulla trasparenza che stanno elaborando.